Quella che stiamo vivendo è l'epoca a maggiore intensità di cambiamenti della storia. Solo negli ultimi decenni diversi eventi hanno innescato cambiamenti dirompenti per economie, imprese e società politiche. Quando si naviga in acque tempestose, inesplorate, cavalcare l'onda è l'unico modo per non esserne travolti. Per approfondire questi aspetti, il Sole 24 Ore propone da oggi, giovedì 23 giugno 2022, il volume L'onda perfetta, cavalcare il cambiamento senza esserne travolti, di Marco Magnani, economista che insegna International Economics presso Luis Guido Carli a Roma e presso l'Università Cattolica di Milano, oltre che all'Harvard Kennedy School. Le crisi petrolifere e la stagflazione negli anni 70, il crollo del muro di Berlino nel 1989 e nel 1992, l'attacco terroristico alle torri gemelle l'11 settembre 2001, i confini in Afghanistan e in Iraq, la crisi finanziaria iniziata negli Stati Uniti nel 2007 e le successive crisi di debito sovrano ed eurozona, il disastro nucleare di Fukushima nel 2011, la pandemia iniziata nel 2020 e l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e di Putin nel febbraio 2022. Sono naturalmente solo alcuni esempi. In parallelo, la rivoluzione digitale avanza con una rapidità e pervasività senza precedenti, mutando radicalmente il modo di vivere, lavorare, produrre, consumare e socializzare. In un'epoca di continui cambiamenti, imparare a gestirli è una questione di sopravvivenza.